Sfido la brillante mente investigativa di Edgar Allan Poe a un gioco di intelligenza. Ucciderò ancora e sui cadaveri lascerò un indizio. Il pozzo e il pendolo. Ci sono altre storie nella raccolta. Ho paura di sì. Ti amo tanto, Edgar. Lei dov'è? La partita è tra voi, Emily. The Raven. Dal 23 marzo al cinema.